Vincent van Gogh e la coca cola di Marco Dallari. C'erano due persone quel giorno da Père Tanguy, un marinaio sbarcato da pochi giorni da una traversata oceanica e un pittore dai capelli biondo rossicci e l'aria espiritata. Il padrone di casa si chiamava Julien Tanguy ma tutti lo chiamavano Père Tanguy perché trattava i giovani pittori squattrinati proprio come avrebbe fatto un buon papà. Il suo mestiere infatti era quello di venditore di colori e pennelli ma spesso regalava i suoi prodotti agli artisti i quali non ancora apprezzati a causa delle tecniche sperimentali e decisamente anticonformiste che utilizzavano non avevano molti acquirenti. Messier Tanguy nel retro della sua bottega aveva allestito una piccola galleria d'arte in cui esponeva le opere dei suoi protetti cercando di procurare loro qualche cliente ma gli affari non andavano granché bene. Così i dipinti dei giovani Serrat, Cézanne e Gauguin rimanevano a lungo appesi anche se ogni tanto qualcuno un po' perché convinto dal venditore, un po' per pietosa solidarietà si portava a casa un quadro. Ma l'artista di cui per Tanguy non riusciva a vendere nulla era proprio quello biondiccio e spiritato il quale oltretutto per comporre le sue opere utilizzava grandi quantità di colore che pagava raramente perché spalmava le tinte sulla tela spremendo direttamente dai tubetti corposi strati, soprattutto di giallo e di azzurro, le sue tinte preferite. Mentre il marinaio consegnava a Julien Tanguy terre e polveri portate dall'America per fabbricare i colori il giovane pittore esaminava con interesse alcune stampe giapponesi appese al muro. In quel periodo erano diventate di moda le stampe giapponesi specialmente se riproducevano scene di vita quotidiana arrivate a migliaia in occidente e vendute a poco prezzo dai mercanti dagli occhi a mandorla nelle botteghe aperte ormai un po' dappertutto. Il marinaio, ricevuto il suo compenso, tirò fuori dalla sua sacca da viaggio una grossa borraccia. Vi faccio assaggiare una bevanda straordinaria, disse. Si chiama Coca-Cola. In America ne vanno pazzi. E' un liquore? Chiese Bertanguy mettendo tre bicchieri sul tavolo. C'è pochissimo alcol, ma è assai tonificante. Rende allegri come l'assenzio, ma fa bene alla salute come il fegato di merluzzo. Sono riuscito ad avere la ricetta originale da un assistente del suo inventore, un farmacista di nome Pemberton. E l'ho fatta rifare da mio cognato, farmacista pure lui. C'è caffeina, estratto di vaniglia, estratto di foglie di coca, acido citrico, limone, arancia, noce moscata, cannella, coriandolo e pochissimo alcol. Si lascia tutto in infusione per 24 ore ed ecco qua. Tanguy gustava la bevanda con evidente piacere, mentre il marinaio sorseggiava il suo prodotto con aria compiaciuta. Il pittore guardò l'intruglio con occhi fiammeggianti di sdegno. E' senz'altro una maledizione, un veleno mandato dal nuovo mondo per corrompere e distruggere la nostra anima, esclamò con voce tonante. Anche le stampe giapponesi vengono da un altro mondo, sembrano interessarla parecchio, disse il marinaio un po' risentito. Ma quella è arte! Arte! Il pittore adesso aveva un tono concitato, quasi febbrile. E l'arte non ha bisogno di intrugli maledetti, perché fare arte è come avere un gran fuoco nell'anima, anche se nessuno viene mai a scaldarvisi. E i passanti non scorgono che un po' di fumo, in alto, fuori dal camino, e poi se ne vanno per la loro strada. Girò le spalle, sdegnato, e si diresse verso la porta della bottega. Ciao Tanghi, esclamò uscendo, domani ti porto un ritratto che ho fatto per te. Ci sei tu, seduto, con uno sfondo di immagini giapponesi molto belle. E se ne andò. Quel tizio sembra un po' suonato. Chi è? chiese il marinaio. Sarà anche un po' suonato, disse per Tanghi con una punta di malinconia, ma è un genio della pittura. Forse il più grande. Si chiama Van Gogh. Vincent Van Gogh. La pittura è un po' suonato. La pittura è un po' suonato. Grazie a tutti. Grazie a tutti.